ciao a tutti e bentornati qui nel regno della mia postazione make up che stiamo cercando di riorganizzare insieme come vi avevo accennato partiremo con i rossetti perché perché non so più dove metterli e quindi posticiperemo tutto il termine del reparto occhi e prima termineremo con questa parte saranno tre video quindi una fila di video il primo dedicato ai gloss e a tutti quei rossetti che hanno un finish glossato ma anche alle matite labbra che si nascondono tutte in questo cassetto ci occuperemo poi dei rossetti in bulle e dei rossetti liquidi e nell'ultimo video al termine dell'ultimo video vedrete la pulizia e la riorganizzazione di tutta la postazione voi pensate che tutti questi rossetti possono stare qui sicuramente no come vi ho accennato alla fine di tutta questa riorganizzazione quando avrò terminato con le palettes mi piacerebbe sistemare tutto questo mobile e metterci tutti quei rossetti con i quali mi piacerebbe fare una sorta di cambio armadio o magari quei rossetti che uso meno ad esempio quelli con le palettes che non ho bisogno di avere a disposizione a portata di mano nel quotidiano noi siamo pronti oggi non abbiamo la maglia ufficiale da declutter perché la felpa di lisa eldridge parlando di prodotti labbra mi sembrava molto più azzeccata detto questo come sempre bando alle ciance e cominciamo possiamo cominciare io sono qui vedrete solo le mie mani e gli swatch e come vedete ho fatto dei pacchettini di matite perché sono andata a dividerle per brand in modo da riuscire a fare un video un pochino più organizzato partiamo dalle prime che mi sono capitate in mano che sono le matite di astra delle quali posseggo tre formule una formula è quella della linea pure beauty che adoro è una delle mie formule di matite preferite e lo dimostra il fatto che due matite siano davvero davvero cortissime nonostante io possegga tante tante matite nella mia makeup collection adesso ci sono anche i rossetti abbinati e quindi le sfrutto particolarmente le due che sfrutto di più sono rosewood la numero 5 e magnolia la numero 4 non potrete dubitare del fatto che siano due rosati eccoli qui loro sicuramente non se ne vanno da nessuna parte mi piace moltissimo anche la shade numero 6 anche per lei ho il rossetto abbinato anche qui un rosato vedrete molte matite rosate in questo video amo molto i rossetti con queste colorazioni e qui abbiamo la numero 2 e la numero 3 che sono state sicuramente un mio errore una mia scelta azzardata amavo così tanto questa formula che ho ordinato tutte le colorazioni ma io non uso i rossetti marroncini e quindi queste due shade ovvero la 2 e la 3 non le ho mai utilizzate e quindi mi sento assolutamente di declatterarle queste finiranno sicuramente alla mia mamma che invece utilizza queste colorazioni abbiamo poi la linea classica delle quali possiego solo una referenza che avevo comprato per halloween con le mie bambine in svizzera per fare un bellissimo rossetto viola da strega non è sicuramente una scelta che utilizzerei nel quotidiano ma per qualche occasione di questo tipo può tornare utile e quindi mi sento di tenerla nella mia makeup collection facciamo un cambio tengo declattero e poi abbiamo le matite di questa linea che mi piacciono non mi fanno impazzire perché le matite retraibili sono sempre comode perché non dobbiamo fare la punta ma quando vogliamo essere precisi non si riesce mai perché obiettivamente non si riesce ad avere una punta puntita questa è la colorazione rosata che è una di quelle che utilizzo sicuramente di più queste matite però hanno effettivamente una buona tenuta quindi la formula mi piace il mio solito rosso contaminato da del viola e una shade la numero 2 quick 3 scusatemi quick brick che mi piace moltissimo perché è un rosa contaminato da del mattone e quindi quando ho dei rossetti con questa componente devo dire lo sfrutto molto c'è solo una shade sulla quale sono in dubbio quindi loro tre non se ne vanno da nessuna parte è la colorazione numero uno nude vibe è come se rispetto alle altre fosse un pochino più luminosa ed è molto 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 chiara molto molto nude però ho poche matite così nella mia makeup collection quindi obiettivamente una formula che mi piace la tengo matitone gigante sciolto è un blush di puro bio che mi ha regalato erica se passi di qui grazie mille è un blush ma io lo utilizzo tantissimo come rossetto ci faccio sia il contorno labbra che l'interno delle labbra rimane morbido e confortevole è un bellissimo fucsia lo utilizzo anche sugli occhi lo utilizzo un po' dappertutto per questione di comodità e per la forma lo tengo qui con le matite chico come vedete ce ne sono parecchie tre matite sono di limited edition anche qui stesso concetto del quale abbiamo già parlato non temperabili o meglio volendo il temperino lo hanno ma alla fine si va solo a perdere del prodotto loro non se ne vanno perché hanno i loro tre rossetti abbinati e sono dei rossi contaminati più o meno da del viola passiamo adesso alle matite della linea classica le smart fusion lip pencil e qui c'è da fare un po' di pulizia non tanto perché non mi piaccia questa formula è una formula che ha un ottimo rapporto qualità prezzo non sono le mie matite preferite però performano bene per il costo che hanno o meglio avevano forse visto l'aumento di prezzi di chico ma perché come vi dicevo io ho vissuto tanti anni in svizzera chi mi segue da tanto tempo anzi se qualcuno tra voi mi segue da quando ancora vivevo in svizzera vi aspetto già nei commenti avevo due makeup collection e quindi doppie matite e in questo caso ci sono due doppioni ovvero la shade 522 e la shade 527 eccole qui quindi loro due posso tranquillamente declatterarle in questa serie di matite che sfrutto parecchio ce ne sono di più particolari ma ce n'è una che è la 527 appunto che è un fucsia caldo ed è una shade che si fa fatica a trovare e che sfrutto tantissimo proprio con i miei adorati rossetti fucsia caldo e quindi sfrutto davvero davvero parecchio è una formula che mi piace sono contenta che queste matite restino nella mia makeup collection neve pastello labbra non hanno su di me la maggior tenuta ma mi piacciono perché sono molto versatili pastello occhi pastello labbra vuol dire poco perché sono interscambiabili e mi piace proprio giocarmele così quando ci sono gli sconti si pagano veramente veramente poco e ci sono tante tante colorazioni disponibili alcune sono un po' particolari ad esempio questo rosso che è un rosso lici metallico che tengo proprio per un rossetto natalizio che è un rosso metallico lo vedrete in uno dei prossimi video le colorazioni che uso di più sono sicuramente alternative potevate scommetterci un rosa e ovviamente il rosa contaminato da del fucsia ovvero fenicottero loro mi piacciono e voglio tenerle all'interno della mia makeup collection prossimo mazzo anche qui c'è poco da declatterare sono due tra le mie formule preferite le matite di clio makeup tra le quali la mia preferita è sicuramente la perennemente sold out so chic che avete visto nel mio project pen perché volevo terminarla avendola io disintegrata cercando di temperare una matita non temperabile ottima scelta però poi era sempre sold out quindi ho preferito tenerla all'interno della mia makeup collection perché non si riusciva a riacquistare un backup e sicuramente le matite di mulac la formula di mulac mi piace leggermente di più rispetto a quella di clio è una questione di tenuta hanno quel filo più di tenuta nonostante siano due formule ottime ma soprattutto perché si può temperare e questa è la mia adorata sprinkles un bellissimo bellissimo rosato neutro caldo che è sicuramente la mia shade preferita ed anche se è la più nuova delle tre come vedete è la più utilizzata peschiamo qualche matita tra quelle sfuse e abbiamo le matite di essence ne avete già parlato se seguite la mia serie project pen qualora non la seguiste vi lascio qui l'ultimo video nelle schede una matita è finita lì perché queste matite veramente sono molto molto dure e non scrivono particolarmente quella che performa meglio la più pigmentata è lei che è la shade come sempre non riesco a trovarla perché è sul tappo nude mood che forse è l'unica che mi sentirei di tenere e di non bocciare però è una colorazione molto molto marroncina che sfrutterei poco quindi posso lasciarla andare lei non la boccerei ma la shade che boccerei è sicuramente heavenly per riuscire a farla scrivere bisogna premere davvero davvero forte quindi ogni volta non riesco a fare un contorno lab preciso perché premendo poi sbavo e la shade rosata che al momento è nel mio project pen ma non so se ci rimarrà perché sono veramente stufa ogni volta mi fa arrabbiare quindi quella che performa bene cercherò di regalarla a qualcuno che possa sfruttarla l'altra davvero non me la sento perché la qualità non è sicuramente all'altezza quindi mi sentirei quasi in colpa anche a regalarla e siamo arrivati a quella che è la mia formula di matite labbra preferita sono le matite di Lisa Eldridge queste matite hanno una tenuta imbattibile e sono felicissima di aver trovato una shade che mi piace tantissimo ovviamente un rosato che è la shade petal sono delle super 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 matite e assolutamente non se ne vanno da nessunissima parte come vedete in questo caso il declutter è minimo ma a me piace avere tante matite mi piace farle girare e arriviamo ad un'altra formula che adoro e sono le matite di Colourpop eccole qui tantissime colorazioni quella che sfrutto di più è sicuramente la shade Starship indovinate un rosato yuppie lo vedete qui queste matite secondo me sono la formula low cost che più si avvicina a quelle di Lisa Eldridge peccato che Colourpop da noi sia difficilmente raggiungibile c'è la dogana è tanto che non fanno le spedizioni gratuite ma qualora vi capitasse di andare negli Stati Uniti beh è sicuramente una formula che vi consiglio ne ho così tante perché avevo ordinato un bundle e le avevo pagate davvero davvero pochissimo una cosa tipo 2-3 euro l'una anche loro non se ne vanno da nessunissima parte secondo round di pulizie alla fine di questi tre video mi ritroverò con un braccio in fiamme e andiamo avanti con le matite più o meno singole la prima è una mini matita di Charlotte Tilbury mini non perché io l'abbia utilizzata moltissimo ma perché faceva parte di un set mini size con l'iconico rossetto pillow talk che vedete qui come vedete qui è tutto zozzo perché la settimana scorsa ho lanciato una cipria in polvere libera che ha sporcato tutto ma youtube verità sapevo che avrei fatto questo video quindi poi pulirò tutto e quindi ho lasciato tutto così com'era è una shade che mi piace è una formula che mi piace non ha battuto le altre mie formule preferite delle quali vi ho parlato quindi tengo lei proprio perché sarà abbinata al suo rossetto ma non ho avuto la curiosità di acquistare altre matite un'altra formula che mi piaceva molto era quella di UDA matite che adesso sono state riformulate che come vedete sono corte ho sfruttato parecchio la prima è un rosso ho il suo rossetto abbinato è un bellissimo rosso contaminato quando utilizzo questo tipo di rossetti è la matita che utilizzo di più l'altra shade invece è la shade Trophy Wife un'altra shade iconica questo bellissimo nude scuro non ho una matita uguale nella mia makeup collection e quindi onestamente non mi sento di declatterarla anche se è una formula vecchiotta tra l'altro ancora perfetta morbida cremosa scrivente ho la curiosità però di testare anche la nuova formula MAC la formula di MAC a me non fa impazzire sono delle matite poco cremose bisogna calcare parecchio sono però temperabili come vedete si lascia fare una bella punta se cercate un buon temperino ce l'ho proprio qui sotto adoro quello di Zoeva super sfruttato e super consigliato questa è la shade Boldly Bear che tengo solo perché è l'abbinata perfetta a rossetto Velvet Teddy che vedete qui e quindi la tengo proprio per questa ragione andiamo avanti invece con una matita di Deborah shade 006 che non so perché ho acquistato penso di averla acquistata online è un rosa chiarissimissimo non so se abbia degli abbinamenti a livello di rossetto nella mia makeup collection è comunque una matita abbastanza vecchiotta direi che posso tranquillamente lasciarla andare Nars due matite che ho acquistato scontatissime con i saldi a Zurigo le ho pagate una cosa tipo 5 euro l'una un viola e ancora una volta un rosso questa volta è un rosso classico non ho tante matite rosse classiche e quindi la tengo per questa ragione così come tengo queste due matite una è di Diego Dalla Palma colorazione 80 è un marroncino nude contaminato da del rosa e una matita di Cosmify che non so nemmeno se esista più nude collection una colorazione che ho apprezzato la vedete qui con lei usavo Velvet Teddy prima di acquistare la matita abbinata è una formula performante dai tempi mi era piaciuta molto adesso ci sono formule che amo di più come quella di Cleo Makeup come quella di Mulaco come quelle di Colourpop ma non mi sento di declatterarla come vedete non sono stata bravissima ma in questo caso lo sapevo a me piace far girare le mie matite ne ho tante le sfrutto sapevo che non avrei declatterato tantissimo ma non volevo saltarvi questa parte perché so che vi piace anche scoprire e sapere cosa ne penso dei miei prodotti quindi matite declatterate solo sette tutte le altre restano nella mia makeup collection vado a pulire questa scatolina zozza no stavo utilizzando la pezzetta dei miei swatch anziché quella per le polizie epic fail se cercate un prodotto che rimuova il trucco dai mobili andate con lui garanzia no sponsor e andiamo avanti con le nostre pulizie ed eccole qui le mie matite labbra sistemate più o meno nel senso che mi piacerebbe nel cassetto far stare due contenitori più piccoli dividendo le matite nude rosate da quelle rosse fucsia al momento non c'è spazio finché non declattererò i miei mono per gli occhi ma spero di arrivare anche a questo punto poi ve l'ho promesso alla fine di tutta questa serie vi farò un video dove vi farò vedere tutta la mia makeup collection riorganizzata detto questo noi possiamo passare ai gloss e ai rossetti dal finish luminoso eccoci qui ho spostato i mascara spostato da questa parte tutti quelli che sono i gloss qui c'è il contenitore non li vedete tutti tutti ma poi li andremo a pescare uno ad uno e liberato la scatolina da tutti quei gloss che non trovavano un posto gloss ma anche quei rossetti che come vi dicevo hanno un finish talmente luminoso da ricordare un gloss come i super steven i link di maybelline i beyond jelly di nabla queste formule che a me piace restino insieme ai gloss proprio perché mi piace trovarle in quella categoria quando cerco qualcosa di luminoso con un finish glossato potremmo partire proprio da loro visto che sono qui e vado subito a pescare i miei ultimi acquisti perché maybelline per ora si trovano solo su amazon ha fatto uscire tre colorazioni rosate rogue soltri e upbeat vi ho fatto uno shorts qui su youtube ve lo lascio anche lui nelle schede finalmente ci sono delle colorazioni veramente rosate non se ne vanno da nessuna parte e sono il mio ultimo acquisto questi rossetti però non sono perfetti quando li abbiamo da tanto tempo anche se li andiamo a shakerare come è il caso di questa formula cominciano un pochino a separarsi e parliamo della shade capricious il fucsia nel mio caso la formula non è ancora cominciata a separarsi ma ha perso in pigmentazione come vedete la resa è quella di un gloss questo rossetto ce l'ho da parecchio quindi ha superato il suo pow ma è sicuramente un qualcosa da tenere in considerazione quando si acquistano questi rossetti ammetto che lui l'ho comprato insieme ad altre shade che vedremo tra pochissimo che sono ancora perfette quindi credo sia anche una questione di colorazioni i fucsia e i viola come sempre come per gli ombretti danno problemi e questa è la resa e quindi questa shade vado a declatterarla cercherò di non comprare più shade molto molto accese come i fucsia in queste formule che comunque per quanto abbiano una buona tenuta un po' si spostano per questi colori molto molto accesi preferisco delle formule più stabili come quelle dei classici rossetti liquidi Wicked il rosso con una punta di viola lui ha un po' che non lo utilizzo vediamo se è ancora performante lo è in questo caso quando voglio questo effetto glossato con questo bellissimo rosso non me la sento di declatterarlo lui rimane nella mia makeup collection poi abbiamo un po' di shade che voglio swatchare perché mi ricordo che c'erano delle shade simili qui abbiamo Charmed che è un rosa con una punta di pescatino marroncino che potrebbe assomigliare a Peachy andiamo a scoprirlo insieme esatto sono davvero due shade molto molto simili quale delle due tengo tengo Peachy perché ha una punta in più di rosato rispetto a Charmed al quale cercherò sicuramente una nuova casa quindi lui lo tengo lui lo declatterò abbiamo poi Peppy sembra molto molto scuro ma in realtà lo è un po' meno anche qui c'è tanta componente marrone questo rossetto che potrebbe abbinarsi benissimo alla matita Pure Beauty che ho declatterato e potrebbe piacere tanto alla mia mamma sono quelle shade che compro perché non posseggo e mi incuriosiscono ma poi alla fine non sfrutto quindi altra cosa da tenere a mente abbiamo poi Ovestruck spero si pronunci così che è un malva scuro freddo che mi piace può rimanere tranquillamente nella mia makeup collection così come può rimanere nella mia makeup collection Koi che era l'unica shade effettivamente rosata fino a quel momento presente nella gamma Maybelline ma era un rosato comunque con una punta di malva una punta di viola anche lui resta nella mia makeup collection vado a togliere gli swatch con una nuova pezzettina prima che vadano a macchiarmi tutta la mano e rimanendo sempre su queste formule un'altra formula che adoro gli shine bomb di Catrice in questo caso loro all'inizio si comportano come i viniline di Maybelline quindi sono luminosi ma poi sulle labbra si settano e quando perdono la luminosità se mangiamo se beviamo l'effetto che ci rimane sulle labbra è quello di un rossetto matte quindi meno confortevoli magari per delle labbra secche ma non è il mio caso sicuramente un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo io ho due shade anche loro recensiti su uno short su youtube vi faccio vedere il mio nuovo acquisto che è questo bellissimo rosato che sto sfruttando davvero davvero tantissimo la shade a good taste avevo anche una shade più rosata ovvero pinky promise bellissimi non se ne vanno da nessunissima parte li sto utilizzando tantissimo come vi dicevo li tengo con i gloss perché effettivamente appena applicati la resa è quella di un gloss molto molto pigmentato andiamo avanti Nabla beyond jelly mi sono appena accorta che me ne manca uno che credo sia nella mia borsetta vado a recuperarlo eccoli qui tutti e tre loro li sfrutto tanto anche così effettivamente parto con un rossetto liquido e poi durante la giornata riapplico loro io ho tre shade Lutz e Dea che sono dei rosati più freddi Lutz è quasi del colore delle mie labbra e quindi è un feeling veramente veramente molto molto nude lo metto già in questa cassettina perché so già che loro non se ne vanno da nessuna parte Dea più rosato e leggermente più scuro e poi Solstice che utilizzo quando voglio qualcosa di più caldo è una formula che mi piace che non ha messo d'accordo tutti e capisco perché se volete approfondire la questione c'è la mia recensione sul canale andiamo avanti invece con una formula che mi ha sicuramente delusa ve ne ho parlato nell'ultimo video è questo rossetto di House Labs ho provato a farlo funzionare in tutti i modi un Atomic Shape Lick Lacquer la shade è la Rose Shine questa formula mi ha fatta impazzire ho provato ad utilizzarla in tutti i modi come vedete ha già dei filamenti strani anche attorno al pack tantissime accortezze bisogna shakerarla bisogna applicarla con le labbra aperte lasciarla asciugare ma poi la resa non è omogenea non è uniforme sulle labbra è poco confortevole perché le labbra quando si perde la patina lucida rimangono appiccicosissime no 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 questa è una shade bocciata alla quale ho dato tantissime tantissime possibilità questa formula non mi convince nemmeno la shade che come vi dicevo è molto molto diversa dagli swatch online qui finirà temporaneamente nella cassettina per un altro video che avrete già immaginato qual è ma non voglio tenere questa formula nella mia makeup collection perché non è all'altezza di altre formule come ad esempio una formula molto molto simile che fa più o meno la stessa cosa anche se ha un filo meno tenuta è la formula di Linda Halberg che è stata un po' la prima a realizzare questo tipo di formula prima di Vanillink prima di House Labs questa è la shade questa formula mi piace tantissimo la shade è Dusty Pink e sono i Latex Fever Liquid Lipstick peccato ci siano solo tre shade perché se ci fosse un rosato con questa formula lo acquisterei immediatamente Linda Halberg batte House Labs andiamo avanti con una formula che voi sapete io amo e ha in assoluto la resa che può avere un gloss sulle labbra parliamo dei super lustros io ho due shade glazed mauve e glossed up rose anche qui sono le uniche due shade sono andata a sguacciarli tutti perché io qui da me li trovo da tigota che effettivamente mi piacciono un rosa bello acceso ed un malva loro sono molto simili nella resa ai rossetti di Nabla molto diversi nel feeling perché sono più luminosi più morbidi non hanno quella componente un pochino appiccicosina un pochino jelly che rende quelle di Nabla un pochino più durevoli forse ma sono due formule che adoro loro mi piacciono di più per la luminosità anche se tengono un pochino meno sulle labbra non se ne vanno da nessunissima parte peccato che nei negozi attacchino sempre gli adesivi sui prodotti e mi rovinano tutti i rossetti mi prenderò un pochino di tempo per pulirlo andiamo avanti con quelli che sono due presunti dupe ma poi non così tanto ve ne ho parlato anche qui in un video del rossetto iconico di Tarte ovvero i Maracuja Juicy Lips che sono obiettivamente dei gloss in tubetto di lui non parliamo perché è inserito nel mio project pen quindi lo scopo è terminarlo di questi due presunti dupe che in realtà non sono nessuno dei due un dupe al 100% uno mi è piaciuto parliamo del Fat Oil Sleek Click morbidi idratanti una bella risa glossata sulle labbra li sto sfruttando tantissimo in questo periodo li sto sfruttando in realtà no perché è solo uno mi piacerebbe trovarli dal vivo e capire se c'è un'altra shade che possa piacermi questa è That's Measure gli Swatch Online ingannano alla fine è un rosato malva freddo il prodotto che mi ha delusa è il Melt and Shine di Catrice ancora una volta mi ha delusa perché gli Swatch Online non corrispondono alla realtà alla realtà di un lip balm praticamente trasparente molto molto luminoso ma un lip balm rimane in sé non si scioglie a contatto con la pelle come il prodotto di NYX e ancora di più come il prodotto di Tarte in più ha quella famosa profumazione plasticosa che come vi dicevo non mi piace e quindi lui finirà insieme al prodotto di House Lab in un altro video ma sarà comunque un declatterato sposto i rossetti di Maybelline che occupano un sacco di posto nella cassettina dei tenuti altrimenti non ci staranno tutti gli altri rossetti loro li tengo li teniamo qui e prima di passare a delle formule che ricordano molto di più dei veri e propri plopli propri gloss oggi non ne combino una giusta e poi parleremo anche di questo rossetto termino con un'altra formula simile appunto a questa formula Latex che sono i rossetti di Revlon io vi ho fatto un video comparazione tra la formula di Revlon e quella di Maybelline vi lascio anche lui qui nelle schede se c'è ancora a posto e sono i Colorstay Satin Ink una shade che adoro l'ho scoperta quest'estate acquistandola in Francia è la numero 10 Your Majesty ovvero ditelo in coro voi per me un bellissimo rosato che in mancanza di altro quest'estate ho sfruttato anche come blush bellissima shade non se ne va da nessunissima parte buona shade che ho sfruttato un po' poco è il Fuchsia non perché non mi piaccia la shade che adoro ma perché abbiamo detto appunto queste formule che si spostano sarebbe meglio averle in delle formule magari rossetto liquido che si fissano sulle labbra perché loro hanno una buona tenuta per avere un finish così luminoso hanno anche questa componente no transfer ma non hanno sicuramente la tenuta di un rossetto liquido classico ma questa shade Foxy è troppo bella per essere abbandonata non se ne va da nessuna parte le ultime due shade sono la 007 Partner in Crime e la 006 Speak Up vado a swatcharle e onestamente penso di poter lasciare andare Partner in Crime perché ho le labbra belle pigmentate e queste shade qui molto molto chiare purtroppo mi fanno un pochino smorta quindi troverò qualcuno che possa sfruttarla più di me l'altra shade invece è un rosato malva che mi piace e non se ne va da nessunissima parte in questo caso sto tenendo tanto ma dai anche la cassettina declatterati comincia ad essere più colma mi era dimenticata un'altra delle formule che possono ricordare un pochino il prodotto di Tarte i Maracuia Juicy Lips e parliamo di un prodotto di Maybelline Green Edition Balmy Lip Blush anche qui un balsamo labbra non scioglievole come la formula di Tarte ma che comunque ha un finish molto molto glossato questa formula è super promossa per me profumano di anguria mi piacerebbe trovarli dal vivo e trovare una shade più adatta a me perché questo come vedete è un marroncino e queste shade davvero non mi donano e quindi anche lui declatterato perché è praticamente nuovo ce l'ho da pochissimo e cercherò di trovarli subito un'altra casa e qualcuno che possa apprezzarlo e sfruttarlo finché è nuovo piuttosto che dimenticarlo nella mia make up collection e poi andare a declatterarlo più avanti rimangono quasi solo formule ufficialmente di gloss l'ultimo rossetto che rientra in questa categoria ibrido lip balm rossetto è di neve cosmetics nella linea rugiada ed è la colorazione gelso qual è il problema con questo rossetto? che il tappo come vedete non sta chiuso non posso portarlo in borsetta e soprattutto c'è tanto contatto con l'aria e quindi nonostante sia un prodotto che mi piace anche lui ha proprio questa scioglievolezza e questo feeling che è un mix tra un lip balm e un rossetto e questo finish glossato lui va terminato qui entra più aria non sta chiuso bene ermeticamente non mi è caduto non gli è mai successo nulla fatemi sapere se anche a voi è mai successo con i rossetti di neve io ne ho altri due con lo stesso pack ma sono rossetti classici e non mi era mai successo mi dispiace perché è una formula che mi piace non chiudendosi come vi dicevo c'è troppo contatto con l'aria questo prodotto va terminato non ho preparato una cassettina per i prodotti che finiranno nel mio project pen perché alla fine è solo lui ma lui per questa ragione voglia terminarlo così quindi lo metto qui da parte rimane nella mia makeup collection ma da terminare nel project pen e possiamo passare a quelli che sono effettivamente lip gloss e lip oil che sono qui davanti a me partiamo da quelli che non sono inseriti all'interno del contenitore e abbiamo due fat oil di NYX un ibrido tra un olio labbra e un gloss a me questa formula piace tantissimo applicatore cicciottello che ricorda quello dei gloss di Dior che hanno sempre questa formula ibrida skin care e make up io ho due shade non sono poi così diverse tra loro questa è super model e poi abbiamo new speed che è leggermente più rossa e aranciata ma è una questione davvero di riflessi a me questa formula piace quindi sono felice che questo prodotto rimanga nella mia make up collection tra l'altro una è una formula matte mentre nella prima shade ci sono anche dei glitterini quindi c'è anche questa diversità eccolo qui lip oil di essence un hydra kiss una formula amatissima con un ottimo rapporto qualità prezzo per quanto riguarda la formula è amatissima anche da me anche qui un ibrido lip gloss olio labbra bellissima luminosità sulle labbra sono belli densi quindi sono quei prodotti che rimangono al loro posto ma senza essere appiccicosi perché voi lo sapete io non amo i lip gloss appiccicosi e voi direte quindi lo tieni nella tua make up collection no perché c'ha una componente che assolutamente non mi piace che è la profumazione profumazione che si trasforma in un sapore sulle labbra che mi rende difficile utilizzare questo prodotto soprattutto quando sono a rischio mal di testa voi lo sapete soffro di micranie e a volte una profumazione fastidiosa rischia davvero di rovinarmi la giornata quindi questo è un super prodotto super approvato semplicemente lo declattoro per una questione di profumazione anche lui cercherò di trovare presto una nuova casa perché è praticamente nuovo l'ho appena acquistato parliamo di mesi ovviamente parlo di una nuova casa in famiglia non rivenderei mai o non riregalerei mai al di fuori della stretta cerca dei miei amici dei prodotti utilizzati sulle labbra questo ci tengo a specificarlo andiamo avanti con un prodotto di Estée Lauder un Pure Color Envy Envy non ne ho la più palida idea che è sicuramente una di quelle shade lattiginose effetto morta che sulle mie labbra stanno malissimo perché ho già le labbra naturalmente di loro pigmentate e quindi con queste shade chiarissime non sembro più io effetto cadavere e quindi li posso tranquillamente abbandonarlo probabilmente l'avevo trovato in una beauty box di look fantastic credo almeno sia così Lip Oil quel famoso Lip Oil di NYX ha lo scovolino molto simile al Lip Glow Oil di Dior che mi piace molto ovviamente è stato un po' il primo prodotto con questo claim se fossero usciti prima loro non avrei mai acquistato lui non è sfruttatissimo proprio per una questione psicologica l'ho pagato tantissimo ai tempi e quindi lo sfrutto meno degli altri perché costa tanto è una logica sciocca non lo riacquisterei dovessi terminarlo riacquisterei i Fat Oil però è un prodotto che mi piace c'è anche una differenza qui abbiamo una profumazione di frutta di lampone che mi piace molto qui abbiamo quel finish mentolato che non sempre mi fa impazzire quindi lo utilizzo un po' meno anche per questo ma è una formula che mi piace che rimane nella mia makeup collection andiamo avanti con un mini set di gloss di Fenty c'erano 4 colorazioni in questo mini set una l'ho regalata mia sorella perché su di me faceva effetto morta queste sono le tre che ho salvato la prima è Tuffy Tease era un set natalizio ma anche qui siamo su quelle colorazioni pescatino chiare che non mi donano a me la formula di Fenty piace ma mi piace meno delle mie due formule preferite delle quali parleremo tra pochissimo quando si tratta di gloss perché è un pochino più appiccicosa non terribilmente appiccicosa quindi ha una buona formula ma ho formule altrettanto luminose che hanno meno questo effetto sticky questa shade onestamente è il caso di lasciarla sicuramente andare l'altra è Ruby Milk che è una di quelle che ho utilizzato di più perché come vedete è bella accesa questa componente viola mi piace sulle labbra è luminosa quindi rimane nella mia makeup collection e poi cake shake un marroncino con glitterini argento che ogni tanto utilizzo con velvet teddy che mi piace in full size all'interno di un set da sephora c'era anche la shade iconica fenty glow è il più nuovo dei miei gloss di fenty è una shade iconica un po' marroncina per i miei gusti però mi piace l'idea di averla nella mia makeup collection proprio quando voglio dare un tocco più caldo magari ad un rossetto al di sopra di un rossetto rosato ci può assolutamente stare togliamo anche questo giro di swatch io che vi dico che non vi swatcho tutte poi vi swatcho assolutamente tutto ed arriviamo a quel gloss che so che voglio tenere nella mia makeup collection perché è particolare ma che non sfrutterei ogni giorno è un gloss di sephora colorazione 10 wild è il mio gloss io lo chiamo il mio gloss sirenoso quando faccio quei look lilla sirenosi sbrillucicosi è sicuramente un gloss che mi piace sfruttare anche per delle foto io non lo so se si colga in camera a tutti dei riflessi blu azzurri viola non è sicuramente un gloss che sfrutterei nel quotidiano ma lo sfrutto spesso in alcune occasioni e quindi voglio metterlo nella parte 2 della mia makeup collection ovvero quei prodotti che vado a cercare all'occorrenza ma che non ho bisogno di avere a portata di mano nel quotidiano ma rimane comunque nella mia makeup collection così come rimane questa formula di Marc Jacobs che è stato un po' il primo a creare prima ancora di Tarte questi gloss in stick lui l'ho acquistato quando il brand stava per chiudere e quindi scontatissimo tornerà chissà come chissà con che formule perché avrà un altro partner per realizzare i prodotti si parla di 2025 lo attendiamo tutti con ansia ma nel frattempo a me questo gloss piace molto è un malvarosato la formula è ancora perfetta dovrei semplicemente sfruttarlo di più che è un po' il senso di questa riorganizzazione riuscire ad avere più a portata di mano i prodotti non in scatolina appoggiate lì perché non vedendoli non li utilizzo al meglio è assolutamente una formula che mi piace probabilmente la metterei al posto numero 3 tra le mie formule di gloss preferite peccato non esista parliamo di queste formule preferite perché no se la giocano al primo posto Pat McGrath io ho due gloss in questa formula lo so sono gloss costosissimi ma io adoro la formula di Pat sono gloss io ho scelto due shade pigmentate ma ce ne sono di meno pigmentate ce ne sono di luminose molto molto confrotevoli sulle labbra che rimangono al loro posto e non sono per nulla appiccicosi a me piacciono davvero davvero tantissimo sono sempre stati la mia formula preferita di gloss la shade più rosata è Heavy Petal l'altra è il classico Divine Rose finché non ho scoperto i gloss di Kaleidos che mi hanno davvero fatto innamorare adesso non saprei più dirvi tra le due qual è la mia formula preferita che sono questi gloss rimpolpanti che poi è come se si settassero sulle labbra hanno un'ottima ottima tenuta senza essere appiccicosi tanto che nel tempo sono partita da una shade Pink Marquise e poi ne ho acquistate altre due Pink Marquise è un bellissimo bellissimo rosato che vedete qui poi ho acquistato Elixir che vedete qui più caldo e poi volevo una shade più fredda ed ho acquistato Last Smoke che è questo malva davvero davvero freddissimo che uso con parsimonia ma che mi piace parecchio devo dire non tanto quanto le altre shade e quindi lo utilizzerei solo in specifiche occasioni e quindi anche lui può andare nel cambio armadi dei miei gloss formula di Fenty che invece non mi è piaciuta parliamo dei cream gloss questi sono dei gloss più pigmentati ho trovato un filo più appiccicosa della formula classica e soprattutto questa shade così aranciata e sparaflescia come dico io non mi dona quindi posso tranquillamente lasciare andare questo gloss così come posso lasciare andare questo mini gloss di Yves Rocher colorazione rossa calda troppo intensa per me quando si tratta di un gloss piuttosto vado ad applicare un rossetto e quindi anche lui declatterato Kiko una formula vecchissima Waterflower Magic questa era una formula che a me piaceva anche qui siamo su questi gloss pigmentatissimi che poi sulle labbra è come se si settassero hanno un po' la tenuta di un rossetto è un ibrido tra un gloss e un rossetto liquido che trasferisce la shade mi piace ma devo lasciare andare questo prodotto perché davvero 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 aiutatemi a dire davvero vecchissimo Molac Sai Gloss una formula che mi è sempre piaciuta perché aveva effettivamente un effetto rimpolpante andando a pizzicare ma non troppo ve lo swatcho qui andando a pizzicare ma non troppo ma troppo per me adesso io ho una sensibilità a questi prodotti che pizzicano particolare e si è accentuata con il tempo quindi anche lui che pizzicava un pochino meno degli altri non riesco più a sfruttarlo è un prodotto che mi piaceva ma per me diventa un po' una tortura utilizzarlo e quindi non lo sfrutto più posso tranquillamente lasciarlo andare finalmente un po' di soddisfazione in una cassettina che è un pochino più piena un'altra formula di gloss che mi piace moltissimo anche qui non saprei dove metterla terzo quarto posto parliamo dei lifter gloss di Maybelline sono leggermente più appiccicosi rispetto a Pat McGrath e a Kaleidos ma sono degli ottimi gloss riempitivi rimpolpanti idratanti senza andare a pizzicare perché l'ingrediente idratante è l'acido ialuronico all'interno io ho la shade 04 silica che non se ne va da nessuna parte come non se ne va da nessuna parte la shade 005 petal devo solo sfruttarli di più dopo il covid ho un po' perso l'abitudine di utilizzare i gloss ma in realtà la resa è bella e quindi è un prodotto che devo sicuramente rivalutare elf anche qui un ibrido skin care make up perché è un prodotto che ha il creme di andare anche ad idratare le nostre labbra anche qui questo colorino pescatino sbiaditino lattiginoso un po' pastello che purtroppo non mi dona ho pensato di terminarlo come prodotto skin care ma ho tanti di quei lip oil lip balm che onestamente non lo sfrutterei quindi posso tranquillamente lasciarlo andare così come posso lasciare andare questo prodotto di kiko era la collezione sweet affairs da una parte un gloss che è la ragione per la quale lo tenevo qui con i gloss mentre dall'altra parte un rossetto che però trasferisce quindi non un rossetto long lasting colorazione bellissima dieci elode questi sono i colori che mi piacciono ma non lo sfrutto mai proprio perché trasferiscono e quindi con queste shade così scure basta mangiare qualcosa e ci si ritrova il rossetto sbavato in giro per la faccia queste formule vanno bene per le colorazioni nude non per queste colorazioni anche perché adesso kiko ha realizzato una formula di lip stain nella quale ho una colorazione simile e quindi questa formula posso tranquillamente lasciarla andare ultimi due uno è un gloss di tart che mi era stato omaggiato con un ordine come vedete è una mini size sul sito ufficiale fanno sempre un sacco di regalini tante volte tart io lo acquisto proprio lì e poi abbiamo un gloss di huda beauty questi due gloss hanno qualcosa in comune non so più dove sbocciarveli ve li sboccio qui sul palmo della mano sono super glitterati effetto wow spara flash o multicrome con questi glitter che vanno dall'oro a rosa sono super wow non li utilizzerei sicuramente nel quotidiano ma solo quando cerco questo effetto appunto molto molto intenso e molto molto particolare li sfrutto sicuramente di più d'estate non li uso nel quotidiano e quindi nonostante mi piacciono molto posso tranquillamente inserirli nella parte cambio armadio detto questo vado a contare tutto dividendo glosse rossetti dal finish glossato e ci aggiorniamo tra pochissimo con i numeri cosa che non ho fatto per le matite perché erano davvero troppe per mettermi a contarle 3 2 1 ed eccomi qui ho dovuto segnarmi tutto per non fare pasticci gloss tenuti 18 14 a portata di mano 4 nel cambio armadi declatterati 10 quindi devo dire che 10 declatterati con 18 tenuti non è assolutamente una cattiva media no declatterati più di un terzo quindi un prodotto su 3 non è andata così bene con i rossetti effetto glossato o lucido perché ne ho ottenuti 18 e ne ho declatterati 6 quindi in questo caso non è andata così bene tutta colpa della formula dei vine link che mi piace tantissimo ne ho ottenuti 2 4 6 7 solo per quanto riguarda questa formula non ci staranno sicuramente tutti i miei tenuti all'interno di questo contenitore come vi ho detto alla fine della serie dedicata alle labbra dei tre video vi farò vedere andando anche a pulire tutto come ho deciso di risistemarli momento youtube verità guardate cosa bisogna combinare tutto questo disastro per girare un video declatter è per questo che la pulizia e la riorganizzazione ve la farò vedere nell'ultimo video perché dovrò smontare tutto e farvi vedere con delle riprese più da lontano la me che pulisce rossetto per rossetto pieno di cipria io spero che questo video vi abbia fatto compagnia vi sia piaciuto se è così non dimenticatevi un mi piace se vi va di andare a guardare le altre puntate della serie declatter trovate una playlist dedicata sul canale ci vediamo alla prossima puntata tutta dedicata ai miei rossetti in bolle io vi mando come sempre un gigante grossissimo bacio e vi ricordo che se vi va io vi aspetto sempre qui cesanna ciao